Questo è lo più profondo, lo stiamo a besare Mi spettarai sul cuoco e mi ha un senso Perché ne so chi è tra chi è, ci marciamo Poi è un porto di mare, qualcuno è lato, qualcuno è mignota Qualcuno è carabiniere Qualcuno è procuratore Hai capito ma niente Qualcuno è maestra di scuola Chieda pure alle barmane, ai camerieri, ai buttafuori Se qualcuno lo sa, ho visto qualcosa Io proprio non so che... Va bene, la ringrazio tanto Come? La ringrazio tanto Andiamo a caccia poche per stare in tronar cervello Si tu me dasso